Eccoci con Umberto Carra, anche tu un 98, stiamo presentando man mano un 98, un allievo dell'anno scorso, quest'anno in Juniors, insomma finalmente oggi potete dire vittoria. Sì, dopo tre partite dove ci hai anche girato un po' male, questa volta abbiamo fatto una prestazione convincente e sono molto felice. Avete lavorato parecchio per questa gara, visti i risultati che vi portavate a presso? Sì, questa settimana a lunedì ci siamo trovati e abbiamo deciso che per noi iniziamo un nuovo campionato e allora questa prestazione ce l'ha confermata. Il gruppo com'è? Vi state affiatando pian piano? Sì, piano piano ci stiamo conoscendo e comunque posso dire che è un gran bel gruppo, io mi diverto sempre negli allenamenti anche quando giochiamo. Chiedo anche a te quello che ho questo da Andrea Formia, il salto di categoria, da allievo a Juniors, insomma Juniors regionale, come sta andando? Comunque ci sono due anni al posto di uno e ti trovi a confrontarti contro altre squadre importanti, però devo dire che bisogna giocarle tutte e fino alla fine non è l'anno che conta. C'è una squadra in particolare che dovete ancora affrontare e che magari temi più delle altre? No, non temiamo nessuno perché comunque siamo all'orizzonte e dobbiamo affrontare ogni partita come singola.